Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Tony F. fa la sua comparsa su Netflix, o almeno così sembra. Oggi, il 12 settembre, la seconda metà della quarta stagione di Emily in Paris è stata pubblicata sul servizio di streaming. Nella nuova stagione, la protagonista si trasferisce a Roma, dove vivrà molte nuove avventure. Per pubblicizzare la serie hanno reclutato una celebrità locale, il rapper Tony F., originario del centro di Roma. Di recente, il profilo ufficiale di Netflix ha condiviso un video in cui si vede Tony F. sulla porta di Emily Cooper. Durante il dialogo, il cantante utilizza un'espressione tipicamente romana, me colioni. Netflix ha saputo giocare bene la sua carta, postando cose che non avremmo mai pensato di vedere come didascalia del post. Molti hanno intuito che il rapper avesse fatto un'apparizione nella serie televisiva. Tuttavia, si tratta solo di un montaggio. La clip proviene da un episodio della prima stagione, in cui il personaggio di Gabriel è stato sostituito da Tony F. Nonostante si tratti solo di uno stratagemma pubblicitario, il video ha generato un'ampia risposta sui social media, con numerosi commenti di amici e personaggi famosi, tra cui Gaia, Ignazio Moser, Rosa Chemical e...